Questi parchi sono stati progettati da un allievo del Piermarini sostanzialmente su terreni presi da due ordini, le Carcanine e un altro ordine monastico Gli Asburgo avevano un atteggiamento su un lice un po' diverso dal nostro, cioè prendevano e requisivano e lì mi sembra che c'era una scalinata che è diventata doppia scalinata in seguito che deve essere quella lì